Ricordati di iscriverti e di attivare la campanella per non perderti nessun video Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie di Minecraft Survival Allora ragazzi, siamo qui dove abbiamo un attimo costruito la parte di casa che avete visto nella scorsa puntata E dobbiamo ancora finirla oggi Quindi dobbiamo metterci molto molto bene a finirla completamente Anche perché manca davvero pochissimo E più che altro per il momento è uno scheletro di casa Perché manca ancora il tetto, manca da fare il secondo piano Ovviamente dobbiamo anche sistemare quest'altra parte E mi avete consigliato di utilizzare quello lì come deposito attualmente Potrei anche farlo, non è un problema anche perché secondo me è l'idea migliore Per iniziare questa puntata direi che ci conviene sicuramente prendersi un po' di ferro Perché mi servirà per poter andare avanti Infatti con del ferro voglio farvi di nuovo un'altra ascia Visto che la precedente è un po' andata a farsi benedire Visto che giustamente si è rotta dopo i tanti utilizzi E ovviamente essendo una casa principalmente di legno Abbiamo bisogno per forza di un'ascia Quindi prendiamoci la nostra ascia E al frattempo notato che anche la nostra farm di bellissime patate È quasi pronta È quasi quasi, visto che ho comunque poca roba da mangiare Direi di raccogliere un po' di patate E metterle finalmente a cuocere È la prima volta che vado a distruggere questa bellissima piantagione Ma mi serviranno davvero così tanto questi pezzettini di patate Perché con questi vivremo almeno per un bel po' della nostra serie E quindi sicuramente ci conviene un attimo recuperarne parecchie E magari metterne a cuocere anche una buona parte Raccolti un bel po' di pezzettini di legno Adesso possiamo continuare la costruzione finalmente Ho recuperato anche qualche freccia Perché i creeper qua vicino non sono per niente facili da battere con le spade Poi ho paura che mi distruggano la mia casa Che non è nemmeno tipo completa Quindi poveretta casa Soffre prima ancora di essere completata Quindi mi dispiace un pochetto anche distruggerla in qualche maniera E ho anche finito il cibo Devo andare a raccogliere quel cibo che ho messo a cuocere Visto che l'ho lasciato lì dentro e non l'ho ancora utilizzato Allora per questa struttura stiamo ancora continuando facendo ovviamente un po' di hockwood Qui ho lasciato la parte per salire con le scale come vi dicevo anche nella scorsa puntata E dobbiamo andare più o meno almeno direi di 3 slot più avanti O 3 in altezza comunque Quindi vediamo un attimo di fare più o meno in questa maniera Per andare avanti Perfetto Così facendo possiamo un attimo già iniziare a costruire il secondo piano Per il piano credo che farò comunque anche da questa parte un semi balconcino Perché balconcino da questa parte e balconcino da questa parte Mi piace come idea Magari per renderlo diverso questo comunque un balconcino un po' all'aperto Possiamo fare qualcosa che invece non sia all'aperto qui Ovvero chiuso in qualche maniera Non so bene come ve lo faremo adesso vediamo E nel frattempo per il momento andiamo a costruirci comunque Tutta la parte qui con i normalissimi blocchi Eccola quindi qua la parte un pochetto chiusa Sì devo ancora chiuderla non preoccupatevi Mentre per quanto riguarda questa Mi sa che mi mancavano solamente le slab Infatti ho fatto un po' di questa roba Però mi sa che non ho finito con le slab Infatti mi serviva proprio questa roba Per poter continuare a fare Almeno per completare tutto quanto Questa parte Perfetto Quindi questa per ora è prodotta Ha questa parte un pochetto 3D qua e mezzo Che mi piace Ed è anche abbastanza carina da vedere Magari l'unica cosa che comunque devo sistemare ancora È la parte di sopra sicuramente Quindi andiamo un attimo a fare anche la parte del vetro qui Per farla più alta direi che mi servono almeno 4 di altezza Quindi ho bisogno comunque credo di più Oakwood Speriamo che crescano qua vicino Lì ne vedo un altro Però mi sa che non sono cresciuti così tanto Ovviamente bisogna fare la stessa cosa da questa parte In questa maniera Di qui ovviamente però non andiamo a posizionare questi Perché non avrebbe molto senso E quindi al massimo Lasciamo direttamente così Con solamente questo legno qua E completiamo questa parte qui Come non lo so sinceramente Anche perché ho bisogno un attimo di capire quanto è grande Direi che possiamo anche lasciarla più o meno così Con questo vetro a 3 Perfetto E poi chiudere sopra in questa maniera Ci stiamo davvero mettendo un'eternità per finire questa parte Però sono felice del risultato Va benissimo per il momento diciamo l'utilizzo di questa cosa Qui ho sbagliato qualcosa Ah ecco cosa ho sbagliato Infatti dicevo che avevo sprecato un po' troppa legna Effettivamente infatti l'avevo fatto Infatti qui devo un attimo chiudere Questo essendo un balcone Dobbiamo in qualche maniera cercare un modo per uscire E direi che un'idea ce l'ho per quanto riguarda questa uscita Più o meno un'idea abbastanza carina Mi servirà una slab qua In questa maniera Da questa parte andranno invece due cose Viene un attimo se riusciamo a scendere velocemente E comunque vi faccio un attimo vedere adesso La parte di dietro così È un po' più carino da vedere E vi faccio vedere un po' come sta uscendo anche tutto quanto Facciamo 8 scalini Sono un po' troppi per il momento Però va bene Per quanto riguarda le porte le lasciamo in Oakwood Ma sì tanto chi se ne frega Non dovrebbe essere costantemente importanti Ne facciamo altre Perché sicuramente mi serviranno Eccole qua Quindi mi serve una qui Ovviamente una qui al laterale Ovviamente sempre da fuori Deve essere Perfetto in questa maniera Quindi questa adesso si chiude in questo modo Perfetto Sopra ne va Soltanto una le va Questa qui In questa maniera Da fuori ovviamente Quindi un attimo uscire di qua Oppure da dentro Facciamola da dentro Perché giustamente noi usciamo Però entriamo da questa parte Quindi va bene così E di qua vi dicevo Facciamo in questa maniera Facendo questo modo così Qui lasciamo lo spazio giustamente E lateralmente possiamo inserirci Credo Questi qua Si potrebbe anche fare Manca però Soltanto un blocco Giustamente non ho Quindi a questo punto Utilizzerò qualche altra cosa Perché non ho voglia di tornare A prenderci delle cose Quindi magari possiamo inserirci Questo wood diverso Che comunque Dà un po' Questa specialissima differenza Qua possiamo metterci in questa maniera Questo E va bene E al massimo Giusto per renderlo comunque Piuttosto appetibile Tutto quanto Facciamo in questa maniera Per ora che ci penso Forse è meglio Far tutto uguale Facciamo che lasciamo Direttamente Senza una porta E ci creiamo Magari qualcosa Con queste slab In questa maniera Più o meno Così da creare Tipo un ingresso Un pochetto strano Da vedere Magari questa Possiamo metterla Lateralmente Qua Vediamo un po' Se si attaccano In realtà dovrebbero attaccarsi Mi sa che però Dalla uno punto Giusto dalla prossima versione E poi si dovrebbe attaccare Però l'idea è che comunque Si attaccano In questa maniera Qui Così da rendere il tutto Un pochetto più utile Più bello da vedere E magari qui sopra Possiamo un attimo Cercare di capire Come fare questa cosa qui Quindi possiamo farci Un'idea del genere Non lo so Più che altro Non so nemmeno Se è attaccato Rende così tanto Quindi a questo punto Lasciamo perdere Per ora così Poi vediamo Di sistemare questi particolari In futuro Per ora Questo archetto Mi piace Come ingresso Oltre a questa parte Non c'è bisogno Ho messo qui Invece delle finestre Bellissime fence Che servono per dare Diciamo l'idea Di una finestra Un pochetto più rudimentale Va bene Quindi questa parte Abbiamo finita Mi manca soltanto Da fare questa cosa qui Vedere quanto Deve essere alto Questo pezzo E credo che Mi convenga fare Una finestra In questa maniera Ovvero una finestra A due Perfetto In questo modo Perfetto Qua chiudiamo Quest'ultima parte In questo modo E adesso ci rimane Solamente Da chiudere Tutto quanto Per ora che ci penso Se di qua fa così Di qua dovrebbe Per forza fare Come questi Perché se no Non avrebbe molto senso Quindi devo un attimo Vedere di sistemare Questa cosa Al meglio E quindi Mi tocca un po' Lavorare forse Credo proprio di sì Vediamo un po' Come risolve Quest'altro problema Qui perché Effettivamente Non mi piace molto La visione Di questo pezzo Così Gli altri no Però dall'altra parte Comunque faremmo Allo stesso modo Bella domanda Questa è la casa Conclusa Mi manca soltanto Da fare Il tetto E questa invece È la casa Con il tetto Non si vede molto Da questa parte Però vi faccio vedere Se magari riusciamo A capire Come salire Di qua Vediamo un attimo Se riusciamo a salire Su questo Bellissimo ponte Questa è casa nostra Il tetto Non mi convince Ancora moltissimo Però non ho A meno adesso Un'idea di come farlo Bene bene Quindi ho utilizzato Nella cobblestone Con qualche sfumatura Comunque potrebbe darmi La texture Che poi andrò a utilizzare E per il momento È quasi completa Mi manca soltanto Da recuperare Giusto qualche pezzettino Di sand Che dovrei trovare Comunque lì sotto Perché infatti Basta prendere questa sand E metterla a cuocere E poi abbiamo Tutto il necessario Forse potremmo farlo Più alto Secondo me è quella L'idea Però non sono ancora sicuro Quindi se avete delle idee Voi per migliorare Quel tetto Scrivetelo qui sotto Nei commenti Mi raccomando Ovviamente l'unica cosa Che mi mancano adesso Sono i dettagli E i vetri di casa Quindi andiamo a farci Quelle ultime cose E poi questa casa Sarà abitabile Al 100% Ed è anche abbastanza carina Vi faccio vedere Questa è la stanza Di sotto Di qui si può salire Ovviamente dove vogliamo noi Di qui saliamo E arriviamo al secondo piano Noi abbiamo Una vista Molto molto veloce Qui mi sono dimenticato Di piazzare anche questi cosi Che in realtà dovrebbero Anche essere messe adesso Ora che ci penso Potrebbe essere un bel problema Perché non posso mettere Due insieme È vero? Eh posso mettere questi Questi però Non li posso mettere insieme Cavolo Questo potrebbe essere Un bel problema Cerchiamo magari di risolverlo Poi vediamo un po' Come fare Comunque questa roba E insomma E il pavimento Che abbiamo al momento Forse dovremmo un attimo Anche capire come ci sarà Questo pavimento Poi vediamo Magari Dissolviamo questa cosa Facendo in questa Bellissima maniera Ovvero Continuando ancora con questo Come abbiamo fatto Anche nei lati Così da rendere Tutto un pochino Più carino E soprattutto più bello Perché ci sono due colori All'interno Invece di esserci Stanto il monocromatico Che può essere bello Ma Meglio mettere altre cose Va bene? Quindi questo per ora È quello che appare Magari in futuro Possiamo cambiare Questa roba qui Con degli stone brick Che sapete Io tengo particolarmente A cuore Perché a me piacciono tantissimo 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 E quindi possiamo Anche inserirli in futuro Comunque questa Sarà la nostra dimora Almeno per il momento Bisogna riempirla Di tutte le cose Che ci servono Ovviamente sarà Non un magazzino Quindi per il magazzino Dovremmo creare Una sutura a parte O riciclare quella Che per il momento Comunque lasciamo perdere Perché al fine non ci interessa Per il momento Direi che però Potrebbe essere anche tutto Questa è la parte finale Della casa Che è stata divisa Come avrete visto In due puntate Nella prossima puntata Probabilmente andremo Un pochetto a esplorare Anche perché ho bisogno Di trovare un bel po' Di esperienza L'esperienza si recupera In genere Stanto dal mob spawner Quindi o troviamo Il modo di sfruttare Quel mob spawner Che sta lì sotto Oppure andiamo un po' In esplorazione E scavando anche qualche miniera Direi che potrebbe essere Una buona cosa Anche perché miniera Ci siamo stati davvero pochissimo Tranne che nella prima puntata Quindi potrebbe essere Una buona buona idea Per vedere anche Ciò che c'è qua vicino E se riusciamo Ci facciamo anche una mappa Tanto un po' di canne da zucchero Dovremmo trovarle qui sotto E possiamo iniziare Anche a piantarle Anche perché Di problemi di canne da zucchero Non credo ne avremo così tanti Se siamo vicini all'eserto Che è da quella parte Quindi credo va tutto bene Quindi ragazzi Io per ora vi saluto Vi ringrazio stati con me Anche in questa nuova puntata Se avete dei consigli Su come migliorare la serie Ovviamente come migliorare Comunque qualche struttura Della serie Scrivetelo qui sotto Tramite i commenti Mi raccomando Da lì c'è tutto Ciao ciao E alla prossima puntata La nostra serie Di Minecraft Survival Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti.